Allora, Maurizio Ridolfi, stravolto perché nel finale c'è stato il 3 a 2, ci ha fatto un po' soffrire una partita che però avete approcciato in maniera veramente splendida, a conferma di questo momento finale che vi ha visto davvero prendere possesso dell'inerzia e di tutto quello che avevate di fronte, l'avete spazzato via. Sì, si veniva da diversi risultati utili, nell'ultima sete si era vinto 5 partite e 2 pareggi. La squadra sta giocando bene, si è approcciata benissimo, infatti siamo andati sui 3 a 0, dopo, non so, mezz'ora all'incirca, se era 3 a 0, senza subire niente o quasi. Il secondo tempo abbiamo gestito un pochino anche per il primo caldo, sinceramente i ragazzi erano un po'... e poi quando fai queste partite un minimo di paura di vincere ti viene, non vedi l'ora che finisca, però siamo sempre stati pericolosi, insomma, senza rischiare più di tanto, abbiamo preso due calci piazzati, uno a tempo ormai, diciamo, finita la partita perché abbiamo ribattuto e affischiato la fine, quindi io credo sia una vittoria meritatissima, frutto di un lavoro che viene da lontano, di un grande gruppo, tutti i ragazzi 2005, che è tutta una squadra nuova di Zecca con 21 ragazzi nuovi su 23, un gruppo di dirigenti che, insomma, io stento a vedere nelle realtà delle prime squadre importanti, uno staff con i preparatori importante e questi ragazzi che, insomma, si sono messi da subito, da agosto, a disposizione creando appunto un grande gruppo sia in campo che fuori e hanno raggiunto questo risultato che io penso sia una cosa eccezionale, vedendo con chi ce lo siamo giocato, con delle corrazzate, che sono anni che giocano insieme e che hanno una storia di squadra alle spalle. Noi abbiamo iniziato il 20 d'agosto e piano piano però siamo partiti subito forte e io credo, insomma, alla fine sia un risultato meritato veramente sul campo. Ecco, nel frattempo sto spippolando il telefonino ma non è mancanza di rispetto, sto aggiornando tutti i social in tempo reale con tutte le vostre foto perché vi meritate tutte le massime copertine possibili e immaginabili. Tra l'altro poi se si volesse essere fiscali su un gol di loro c'era anche un mezzo fallo su Moretti, che è stato poi bravissimo. Non giudico mai l'operato dell'arbitro perché ovviamente possono sbagliare, secondo me era fallo però l'arbitro ha visto così e quindi, però insomma alla fine abbiamo vinto lo stesso con un pizzico di sofferenza in più, però più perché non vedevamo l'ora che finisse appunto per festeggiare, però insomma un po' sul campo la sofferenza è stata, se si guarda le occasioni, non è che abbiano avuto chissà che occasioni loro e noi si ripartiva, si gestiva, si ripartiva e in contropiede siamo sempre stati pericolosi. Parlavi di questo finale di stagione davvero meraviglioso, c'è stato quel giovedì santo incredibile con la Pistoiese che era andata avanti, sembrava una squadra lanciatissima a distanza di poco, anche all'interno di quella partita si è ribaltato tutto, voi avete fatto una prestazione fantastica che comunque era già in linea con questa fase di stagione e poi le ultime e oggi per esempio hanno dimostrato proprio la condizione psicologico ottimale perché anche tu mi sembra qualcosina a che vedere con l'infermeria, l'hai dovuta un po' in qualche modo affrontare come? Sì, noi nel girone di ritorno abbiamo affrontato almeno quattro partite con sette, otto assenze importanti sia per squalifica o per infortuni, tutti infortuni strani poi fra l'altro perché clavicola, dito della mano rotti, insomma no da dire infortuni muscolari, che uno ci pensa, tutte cose strane, però i ragazzi non potevano giocare e però è lì che si evidenzia il grande gruppo perché è lì veramente chi ha giocato ha sempre dato tutto, si è sofferto però si è fatto dei risultati importanti. Poi da quando è cominciato la striscia da Scandicci, Livorno, pareggio a Scandicci, cinque gol a Livorno, poi le ultime tre noi si è affrontato Pistoesi, Grosseto e San Giovannesi, quindi insomma io penso sia più che meritato aver raggiunto il playoff. Rimaniamo sempre in quella che è l'attualità anche se proiettata per il futuro, il girone l'ha vinto l'Arezzo che ha battuto la Pistoiese, questo risultato comparato a quello dello Scandicci fa sì che nel primo playoff ve la vediate in trasferta contro i fiorentini dello Scandicci, quindi se si pensava a un'altra edizione del derby invece no. Io me lo potevo anche immaginare che se si vinceva che ci potesse toccare lo Scandicci, io credo che a questo punto una vale l'altra perché insomma siamo lì, sono tutte forti però noi ci siamo anche noi, ci se la gioca perché la consapevolezza anche noi di essere una squadra importante che si può vincere contro tutti e l'abbiamo dimostrato, questa c'è nei ragazzi, quindi ora ci si riposa due giorni, poi si ricomincia dal lunedì e si prepara la partita di Scandicci, bisogna andare lì per vincere, ci si proverà, questo è quello che posso dire. Di contorno a quella che è l'attualità, un grande lavoro che riguarda un po' anche i singoli, io credo che qualcuno poi parta per crema, se non sbaglio forse Colzi, se non ho seguito male, quindi sta andando avanti questo percorso anche di squadra in appoggio alla prima squadra del Prato, stamattina ero agli allenamenti e c'era Bartolini negli spogliatori che diceva avrei avuto una voglia matta di giocarla questa partita, perché ne parlavamo anche con i ragazzi della prima squadra, c'era molta attenzione per questa partita, eravamo tesi e Bartolini ha detto pagherei oro per giocare questa partita, che è un altro dei ragazzi che hai tirato su bene, che ormai è quasi impianta stabile con Lucio Brando. Sì, e poi alla fine noi, è ovvio, come tutti si guarda anche il risultato finale, quindi aver raggiunto questo obiettivo è importante, però alla fine bisogna vedere quello che fai per la prima squadra, il serbatoio, chi mandi su, e quindi Bartolini è già uno che ha più di quattro mesi che è fisso in prima squadra, già esordito, meritando anche, domani va a Colzi, durante la settimana si allenano sempre tre, quattro ragazzi o la prima squadra, quindi il nostro obiettivo, è logico, abbiamo raggiunto playoff, ora si prova ad andare avanti, però è quello di dare appunto alla prima squadra due o tre ragazzi, possibilmente per il prossimo anno, questo poi lo decideranno i mister della prima squadra, il direttore, però io credo, insomma, l'attenzione c'è su questi ragazzi, questi ragazzi credo siano cresciuti parecchio, quindi perché no? Allora, noi ci salutiamo, ovviamente è giusto che la copertina sia andata al mister, adesso ci divertiamo, avendo raggiunto i playoff e poi magari, vedo c'è anche Andrea Maretto, per le volte successive, magari ci consentite di conoscere un po' anche qualche ragazzo, qualche vetrina anche per loro, è bene sempre tenerli tranquilli, ma ora diciamo che inizia il divertimento, quindi siamo tutti un po' rilassati sotto il profilo strettamente agonistico, anche se il lavoro ovviamente va avanti e come. Il lavoro viene un ribello, perché insomma, ha raggiunto un obiettivo così, ci si deve preparare bene per provare a fare il meglio possibile, poi ovviamente sì, sono d'accordo, anche i ragazzi, se hanno un po' di visibilità, io sono contento perché la meritano, un gruppo, ripeto, eccezionale, che ha raggiunto questo obiettivo eccezionale. Grazie a tutti.